Devi sbrigare una pratica con la tua auto e non vuoi perdere tempo. Studio Carlea, da oltre 30 anni al servizio dell'automobilista. Giuliano Art on Street, questo è il nome della manifestazione festival organizzata dall'Associazione Culturale Sul Palco, totalmente improntata sulla cultura e che nasce dalla volontà di portare l'arte in strada a Giuliano. Sabato 16 luglio, da Piazza Matteotti a Piazza Annunziata, il corso campano si colorerà di artisti di strada in un tour itinerante che vedrà la sua conclusione con il concerto di chiusura previsto in Piazza Matteotti. Un festival di artisti di strada. Abbiamo cercato di raccogliere un po' di categorie come giocolieri, sparafuochi, mimi, teatrino e musica, ovviamente in quanto noi ci occupiamo di musica popolare. Ci saranno lungo il corso campano da Piazza Matteotti a Piazza Annunziata tutti gli artisti di strada. Ci sarà un piccolo evento a Piazza Annunziata e poi dopo le 10 e mezza ci sarà un concerto dove ci esibiremo noi con tutti i nostri amici musicisti a Piazza Matteotti. Giuliano è il luogo dove abbiamo la nostra associazione, dove abbiamo sempre lavorato. e quindi adesso abbiamo avuto anche l'opportunità di essere appoggiati dal comune e da tutti i negozianti del territorio che ci hanno dato una mano e quindi porteremo avanti questa cosa facendo quello che sappiamo fare portando l'arte in strada. Nel percorso della nostra associazione abbiamo incontrato anche delle problematiche che ci hanno spinto per strada e noi abbiamo incontrato da questo stare in strada molti artisti che fanno questo, lo fanno perché vogliono donarsi alle persone che passano.